Basta Blanco, dati da fare! Tu sparo a quei dati, Blanco. Dirigiti verso il nautico del Nautica e Milico. Io cercherò un punto sicuro per lasciarti lì vicino. William, secondo il protocollo, il ricercatore capo di Dead's Head indosserà un uniforme bianco. Sono il tuo biglietto per la base lunare. Lo troverai in una delle carrozze. ... ... Grazie a tutti. Ti sei perso nel cielo Glasgow? Non vedi il motone del Nautica? Guarda in alto e segui la direzione generica della forza avvolgente. Dovrebbe guidarti verso il bersaglio. Più o meno. Grazie a tutti. 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 Tutti a tutti. Grazie 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 a tutti.